Dibattito di caratura nazionale oggi a Lucca nella chiesa di San Francesco in occasione del convegno conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi. Un appuntamento organizzato dalla fondazione Pera in occasione del decennale della scomparsa dello studio Solucchese, padre del gius lavorismo italiano di età repubblicana. Al centro del dibattito oggi il contratto del settore metalmeccanico. Il contratto dei metalmeccanici è stato uno dei contratti più innovativi nella storia ma adesso in modo particolare quello realizzato il 26 novembre del 2016. Quindi io ritengo che sia una giornata importante. C'è anche la presenza di Federmeccanica che è la parte datoriale che insieme a noi ha deciso di rinnovare questo importante contratto. Nella mia non è organizzata da noi ma grandemente partecipata da noi e vorrei anche far notare che la Will e soprattutto anche la categoria della Will, metalmeccanici, sono presenti per lo meno della Toscana al gran completo. Abbiamo oggi assistito ad un incontro di grande levatura su un problema che secondo me è assolutamente vivo e vivo ma soprattutto in una dimensione reale cioè la contrattazione, le relazioni industriali dove vogliamo arrivare, che cosa ci riserverà il futuro e soprattutto che tipo di futuro vogliamo dare anche attraverso la contrattazione ai contratti di lavoro. Noi come sindacato facciamo il nostro ruolo, lo facciamo credo in maniera onorevolissima e l'intervento di Rocco Palombella a questo importante simposio lo ha tratteggiato con assoluta efficacia. Noi ci siamo, noi siamo disponibilissimi e soprattutto non abbiamo nessuna intenzione di vederci fare le bucce a casa. Voglio citare un attimo le parole dello stesso Palombella, noi abbiamo una rappresentanza reale, i contratti vengono votati dal 90-95% dei lavoratori, non mi pare che quando si va a votare per le politiche la percentuale sia così alta, sicché significa un'ausa sola. Il sindacato c'è ed è un'ottima salute. È una giornata importante che ci vede i protagonisti, il contratto dei metalmeccanici da sempre è il contratto di riferimento in Italia, da sempre è un contratto importante anche in provincia di Lucca perché numerose sono le fabbriche metalmeccaniche dove la Wilm è presente.